Prego seguitemi e ammirate come l'artista glorifica l'infinita attesa dell'uomo di fronte al destino. Ammirate, ammirate. La visione della società postmoderna trova qui la sua massima espressione. Niente foto, per favore. Ed eccoci al pezzo forte. Dopo anni di opere tutte uguali, era ora che arrivasse una ventata d'aria fresca. L'Italia è piena di veri capolavori. Ma se non fai niente, non rimarrà niente. Ricordati di salvare l'Italia.